Presidente, tutto pronto ad Andorra, quinta edizione del Ronde Valmerula. Quinta edizione del Ronde Valmerula, 94 iscritti, un parterre d'eccellenza a partire dalla Zero, la macchina che aprirà il percorso, con il campione italiano Andreucci e Andreussi. Poi abbiamo il vincitore di due edizioni, Gino Ravera, 14 macchine di categoria R5, che come prima gara dell'anno, come voi sapete la nostra è la prima gara del circuito rally nazionale, avere 15 R5 è un bel fiore all'occhiello. Abbiamo anche miele, con un altro WRC, un mucchio di macchine locali, tutto da partire da domani mattina alle 7.51, arrivo alle 16.30 in via dei Mille e il percorso verrà ripetuto quattro volte con partenza da Stobastellanello e arrivo al video di Cesio. Speriamo nella credenza del tempo, visto che ci è stato detto che domani non pioverà, tutti i presupposti per fare una quinta edizione a livello non nazionale ma a livello internazionale. in bancazione Grazie a tutti.